Dopodiché però io ho bisogno di cose concrete, cose concrete che cosa dicono? Che in questa manovra di fatto si taglia da una parte ma si prende dall'altra. Si tagliano le tasse per esempio, e io ci ritorno su questo Greco Guardi perché credo che sia una battaglia di civiltà, non si può lucrare sulle malattie e sui vizi della gente. Questa lotta che dobbiamo fare alla ludopatia deve essere oltre ogni schieramento. La ludopatia vuol dire andare a giocare, il vizio del gioco. Noi non possiamo permettere che lo Stato si trasformi in un biscaziere, quindi aumenti i punti scommesse che ci sono oggi in Italia. Su questa cosa ci deve essere una sollevrazione popolare. Un miliardo di introiti. Gravissimo, cioè a fronte di un miliardo di introiti qual è lo sconto sociale che andremmo a pagare, che le famiglie italiane andranno a pagare? Io non lo so e su questo mi piacerebbe che ci fosse una battaglia trasversale perché ne va della dignità delle persone.